studio sette tv e sport picciano game presenta l'intervista di pietro benvenuti alla nuova puntata abbiamo scritto un canto autore deve allora a questo punto deve dove deve andare per descriverci chi è questo deve e soprattutto appunto dove deve andare a parare o arrivare ok ti spiego ti spiego perché mi chiamo deve io allora mi chiamo andrà di venuto ecco perché deve da piccolo insomma le prime compagnie avevamo come tu sai c'era un sacco di andrea andrea di qua andrea di su andrea di giù allora i miei amici hanno detto guarda è nato spontaneo la cosa guarda ti chiamiamo deve così almeno e io questa cosa seguendo un po quella filosofia del lascia che sia detto va bene allora questo sarà il mio nome artistico tutto qua ecco perché deve questa cosa qua ecco questo volevo precisare perché molti mi chiedono ma come mai deve in realtà è un è il mio cognome ecco e poi dato da questi amici e niente io appunto sono un cantautore artista musicista di torino vivo e sono nato a torino quindi sono proprio torinese non doc perché o mamma insomma emiliana torinese così di adozione e invece papà pugliese ecco e niente insomma sono appunto ho deciso di fare questo questo percorso da un po di anni proprio perché prima io ti spiego suonavo la batteria suona ancora tutt'altro però sono nato come batterista e ho sempre coltivato però la voglia di fare musica mia perché suonavo cover band insomma tutto quel discorso lì e adesso da pochi anni ho deciso di fare questo questo percorso mio con le musiche mie cioè le scrivo io sia testi che musiche e mi accompagnano nei live una rock band sempre di torino e dintorno insomma e che mi sopportano le mie canzoni tutto quanto questo è più o meno il discorso in generale ecco a questo punto parliamo un dato dell'ultimo singolo la strada sì questo punto dove nasce dove parte questa strada per ottenere questo risultato e soprattutto dove attraverso dove cammina questa strada allora questo allora questo questa strada qua e questa questo singolo qua fa parte innanzitutto di un di un album che uscirà credo quest'autunno questo inverno ed è un ti parlo del dell'album perché sono tutte canzoni che sono connesse una con l'altra e fa parte di questo progetto artistico musicale che in sostanza non è non è facile descrivere il messaggio di questo progetto perché sono dei temi molto profondi e molto interiori insomma non voglio usare la parola spiritualità perché è troppo grossa però insomma sono dei viaggi che nella vita che uno fa e niente quindi la strada è un percorso è una persona che cammina chiaramente astrettamente in un percorso del suo cammino sui propri passi e sul proprio destino ecco questo è il senso del del della canzone senza avere quelle influenze esterne lui cammina benissimo cosa qual è il suo percorso va come se fosse insomma una luce e va per la sua strada questa è un po la strada di tutti ecco questo è un po il senso il senso profondo della canzone poi come chiave sia questa canzone questo singolo che tutto tutto il mio percorso artistico alla chiave molto ironica molto solare molto divertente ecco tratta dei temi molto profondi ma con una chiave ti ripeto molto 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 leggera ecco questa un po la situazione la dimostrazione è quella copertina del singolo dove ci hai fatto eh l'immagine probabilmente la tua rappresentazione in fumetto con questo girasole ma anche con questa stella quindi un sogno di stelle ma in fondo realmente con questo prato e con questo girasole che è il sole poi esatto esatto sì 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 è proprio infatti non è non è nata a caso questa copertina perché è natura tutto quello che comunque circonda quella quella situazione lì ecco poi se tu hai visto bene la copertina io ho i boxer bianchi con i cuoricini rossi perché comunque era appunto è un tema molto molto profondo di di connessioni con se stesso però appunto non mi piace io non sono né un tecnico per parlare di queste cose né un maestro e faccio l'artista quindi nel mio piccolo ho deciso di anche un po di alleggerire la la questione insomma quindi questo personaggio è preso talmente tanto di seguire i propri sogni propri la propria strada il proprio percorso che si è dimenticato i pantaloni questo potrebbe essere una cosa insomma che mi faceva sorridere quando l'abbiamo deciso di farla ecco oltre che dimmi dimmi no no oltre notavo le spighe di grano che rappresenta un po la vita esatto 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 quello poi con allora con quel girasole la stella e la mia testa formano una triade che potrebbe essere qualsiasi triade caso anima corpo e spirito potrebbe essere qualsiasi cosa ecco questo infatti sono perfettamente in linea e niente insomma questa potrebbe è piena di significati piccoli insomma io che sono a piedi nudi quindi sono a contatto con la strada quindi la strada insomma il mio percorso non è facile insomma una una cosa così ecco e poi ti ripeto non non è così facile descrivere tante cose perché credo che le parole siano certe volte dei muri quindi io ti descrivo delle cose e poi dico sì ho descritto una cosa che ho dato dei limiti non è facile ecco non è facile poi per me poi gli altri magari riescono a esprimersi bene io mi esprimo quello che sono insomma con la musica è così e niente insomma questa cosa poi ci sono tante tante come si può dire anche tante altre cose come simboli però insomma io non mi piace tanto di scrivere le canzoni perché lascio anche molto spazio all'immaginazione di chi l'ascolta talmente se gli metti tutto lì poi ognuno si può interpretare secondo me la canzone a suo modo ecco per esempio guarda ti faccio un esempio di un'altra canzone che ci sarà poi nel nell'album e c'è una frase questo proprio per dirti questo concetto che ti stavo dicendo c'è una frase che io ho detto stringi forte la tua mano tieni forte la tua luce e io intendevo tante cose arriva un amico mi fa bello perché mi sembra quando ero piccolo di tenere in mano una lucciola capisce ognuno se le interpreta come vuole io le scrivo per delle per i miei motivi tutto quanto ognuno se la può interpretare come come meglio crede ecco nella realizzazione dei tuoi testi nasce prima una canzone saprà un riff un beat un un accordo oppure nascono prima le parole oppure possiamo dire che non la casualità nascono insieme ma guardano nel mio caso non c'è proprio una una regola certe volte ho in mente delle parole poiché diventano frasi o un'idea e li tiro giù subito e poi dopo trovo la la musica mentre alcune volte succede che l'opposto insomma che ho delle musiche delle dei giri di accordi insomma così e mi vengono in mente delle altre cose quindi ti dico per me non è una regola fissa ecco poi come dicevi tu prima magari anche con insieme con le parole e le musiche ecco comunque nasce tutto da avere un'idea secondo me di cosa vuoi dire di cosa vuoi esprimere allora certe volte infatti certe volte mi vengono le canzoni mi vengono di getto ma proprio ci metto un minuto certe volte non mi vengono o in mente un concetto non mi vengono le parole e questa cosa è un po a me mi viene sempre da sorridere ma è drammatico in quel momento non trovare le parole giuste insomma invece nella realizzazione proprio dei testi è preciso essere un po più longevo come il classico italiano nella descrizione e dettagliato oppure come nell'inglese essere un po sintetico un po più ermetico in modo da non far trapelare bene ma far immaginare sì la seconda se si preferisco essere un po più ermetico preferisco parlare certe volte non in spot però certe volte magari una una parola vuol dire tante cose bene secondo me è meglio lasciarla lì e così insomma poi dipende anche lì ecco per me non c'è una regola fissa anche per questa cosa qua dipende dalle dalle cose ecco certe volte mi piace descrivere entrare proprio dentro magari un argomento una sensazione un'emozione certe volte magari solo un flash messo di così dipende da quel momento come sono sono preso ecco e poi come 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 gira la situazione quando perché certe volte magari mi vengono in mente delle 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 frasi delle delle cose che magari sto guidando sono in macchina sono in bici a piedi e dico adesso devo registrare dove registrare poi magari non ho il telefono non ho questo e l'altro vengo a casa e ho perso l'idea questo è drammatico un'altra cosa drammatica però insomma è così e invece chiaramente tu hai suonato al dio perché hai fatto cover band hai fatto tante altre manifestazioni qual è la sensazione che si è provato hai provato prima prima volta ma poi nel tempo ti sei portato dietro ma in cui ti si apre quella quarta platea davanti c'è un pubblico che forse a volte non lo vedi perché c'è buio però senti l'energia che sale e che tu concentrato ma trasmetti a loro quell'energia a quel punto quando tu suoni e poi i tuoi brani che quel punto che sensazione provi eh quella è una grande mio primo concerto è stata perché appunto io suonavo la batteria quindi suonavo tante cover ho suonato in tante cover cover band però poi quando mi sono trovato a con il pubblico allora a livello di di palco non ho più ho tanta emozione ma non ho più quella quella paura di dire adesso vado ho tutti gli occhi puntati che faccio Dio cosa fa no quello mi è passato però l'emozione c'è sempre insomma è una è una bella botta poi quando faccio i concerti ci sono oltre amici anche altre persone che cantano non dico tutto il pezzo ma magari delle 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 strofe dei tornelli e dico entro poi nel camerino dopo dico cavolo però queste cose le ho scritte io e hanno una certa mi prendono proprio dentro insomma è una una bella soddisfazione emozione ecco però insomma si si va avanti quello su quello è una cosa che non bisogna seguire il proprio ego bisogna seguire le proprie le proprie la propria strada insomma anche quello che si è dentro a me fa piacere ma rimane ecco un'emozione ecco che non non secondo me le emozioni non ti devono non ti devono guidare ecco in quel senso lì poi altamente se ti fai prendere emozione insomma potresti fare anche dei danni perché comunque certe volte uno va proprio nel panico io sentivo dei miei amici che suonavano anche negli stadi insomma dei musicisti e mi dicono dicono certe volte capita che quando proviamo un mese lo stesso pezzo poi saliamo gente che fa gli stadi insomma entra lì hai questa botta di adrenalina che a un certo punto vedi tutto nero vedi tutto nero e non ti ricordi niente e lì va in panico insomma perché comunque la sapevi fino a due secondi prima e quelle io credo che le chiamo emozioni se ti prende una cosa live così nei concerti è pesante però insomma non mi è mai successo ma credo che non mi succederà ecco ormai sono da questo punto di vista sono bello svezzato ecco quindi così invece la sensazione che provato ma in cui finalmente hai registrato il primo singolo di questo nuovo progetto e quindi ci hai messo tutto l'impegno ma soprattutto tutte le emozioni che tu esprimevi vedere le facce dell'altra parte della dello studio perché sono stati prima a sentirlo e vedere i loro svalti nei tuoi pensieri quel come li adesso come pensi di quelle facce cosa mi racconti di quelle facce quelle emozioni che loro esprimevano con la faccia e sono anche lì sono grandi soddisfazioni perché appunto vedi dopo tanto tanto lavoro vedi poi alla fine realizzare quello che materialmente è la canzone quindi è bello quando i musicisti ci mettono anche nel proprio nel senso che io chiaramente tu vai con l'idea in studio poi quando la registri c'è il batterista che dice ma facciamo questa cosa qua facciamo l'altra chitarrista idem così allora lì poi torni a casa molto cioè dopo che hai registrato il pezzo tutto quanto molto contento ma ti rendi conto che il pezzo magari certe volte è totalmente un'altra cosa e questo mi fa questo è una cosa che mi piace ecco nel senso che magari prima mi mettevo dei paletti e poi ricollegandomi al discorso che facevi tu e che sì vedere poi le facce dei musicisti che magari sono anche contenti sono presi bene di questa di queste di questi accordi di questa situazione qua questo mi fa piacere molto molto mi è sempre successo quando ho registrato queste queste canzoni qua questo singolo qua mi è successo che i musicisti mi facevano bella bello bello mi piace cosa sto suonando mi piace come viene e questa da musicista credo che sia una grandissima soddisfazione poi il pubblico come sempre piace non piace e va bene così anzi ci mancherebbe scendendo dal palco quando tu incontri queste persone che hanno quel viso rilassato a volte sereno a volte riflessivo a volte triste però che sono stati lì ad ascoltarti tutto il tempo e ti guardano come dire grazie con quello sguardo dice in quel momento mi è dedicato ti ho dedicato e mi è dedicato quel perché si rappresenta un pochino il brano un po' quali le tue emozioni in quel momento in cui loro ti parlano a volte non ti fanno neanche domande ma tu gli rispondi che le rende ancora più felice sì diciamo che c'è una bella a me piace questa certe volte appunto le persone arrivano e e mi dicono frasi che che mi fanno certe volte riflettere perché mi dicono guarda ho fatto ascoltato i tuoi pezzi così dal vivo e devo dire che sono stato veramente bene poi alla fine questo mi è successo tante volte e dico in che senso è stato bene e mi domando perché certe volte non è che possa entrare lì perché magari ti salutano sotto il palco ti dicono complimenti bravo sì 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 quello fa fa piacere per carità però certe volte alcuni mi mi fanno rimanere insomma così vi dico sono stato veramente bene e vanno via col non col sorriso così però se li senti che sono soddisfatti questo credo che sia veramente una una bella soddisfazione ecco quello quello mi è successo tante volte e e li ho ringraziati perché credo che io do qualcosa a loro e loro danno qualcosa a me sempre sempre ma credo in tutti in tutti i campi in tutte le cose c'è proprio una un giro di di energie ecco uno scambio di energie e questo è anche il progetto parlare di di energie insomma di le cose anche che non si vedono questa cosa qua ecco e poi siamo tutti prendendo la pala al balzo insomma di di parlare un attimo del discorso il il mio il mio progetto artistico e anche sono anche connessioni uno con l'altro ecco queste energie che che non si vedono ecco questo mi piace molto mi piace scoprire questo questo mondo qua ecco di energie che non si vedono ma ci sono insomma quindi la musica non è solo non è solo accordi ballare quello ma credo che siano anche delle vibrazioni delle frequenze oltre a queste cose qua ecco questa cosa per me la musica è questa ecco c'è qualche artista in cui un pochettino dietro nel tempo ti sei portato anche in buon talmente perché forse di ascoltarlo di 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 sviscerarlo te lo hai fatto quei caratteristiche tue le personalizzate poi nel tempo sì 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 allora io come come discorso musicale sono nato con ti dico a otto anni ascoltavo punk non mi chiederei perché e quindi sono nato con insomma con i clash non tanto con i sex pistol ma comunque quel filone dei clash poi non è che io limitassi assolutamente però sono nato con quella cosa lì già da piccolo mi piaceva quella musica lì però poi andando avanti col tempo quindi chiaramente mi porto dietro quel quel tipo di di musica anche solo non io non seguivo il filone punk nel senso centri sociali tutti contro no no mi piaceva la musica per figurati un bambino di otto anni cosa ne sa dei testi però si vede che c'era qualche cosa ne soprattutto nei clash che che mi prendeva io l'ascoltavo la mattina sera e chiaramente non sapevo niente a otto anni dei testi di quello che dicessero però secondo me trasmettevano tantissimo quindi questa cosa me la porto dietro poi o mi piace ascoltare tanta musica io arrivo dalla scuola un po di rolling stones un po dei dei pox dei dei smith tutta quella 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 fascia lì ecco per me la musica che ho ascoltato era quella ecco e niente insomma e poi è chiaro che certe volte mi fanno ecco parlando delle cose italiane io uno che non ascoltavo mai e che ho scoperto era lino gaetano che dei miei amici me l'hanno fatto conoscere a livello di di musica tantissimi anni fa e lì ho detto sì mi piace ma non non lo capivo mentre oggi forse lo capisco un già un po di più di com'è di connessione alcuni mi dicono lontanamente lo ricordi perché se con tutti ho chiaramente con tutti i limiti e nel senso dei parametri non è che io mi paragono assolutamente a un gigante così per me è un gigante adesso però insomma mi uta la cosa di dire qualcosina lo ricordi e uno e tu vabbè secondo me no poi è arrivata da forse ti dico forse musicalmente qualcosa ecco non chiaramente come aspetto musicalmente ma io non lo so questa cosa la devo ancora devo capire però mi sono arrivati da più fonti questa cosa mi ha fatto di anche qua riflettere ma vediamo ascoltiamolo meglio questa è un po un po la cosa quindi mi porto dietro tutto queste questo bagaglio di di musica ecco italiana con andrea e tanti altri però ce ne sarebbero veramente tante tante io ascolto ascoltato tantissima musica quindi che vada dal cantautorato al rock mi piace tantissimo mozza mi piace mia mamma era un appassionata di musica classica tutto quanto e niente quindi mi piace quel mondo lì ecco tra rock musica leggera non ho mai ascoltato tantissimo heavy metal musica così ecco rap chiaramente non è non è non è il mio campo ecco neanche tanto il pop insomma lasciamolo un po ad altre persone che lo sanno fa ecco io sono comunque di base sono rock quello a questo punto progetti futuri chiaramente è tutto destinato alla alla pubblicazione del disco che sarà in forzo solo in formato digitale o anche avrà un aspetto fisico come noi ritrovi sì credo che mi piacerebbe so stiamo pianificando ma no no mi piace la 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 cosa fisica mi infatti mi dispiace che che la musica sia in chiavetta così a me non forse perché sono nostalgico ma non credo perché secondo me abbiamo bisogno anche di di una cosa tattile nel senso uno si prendeva guardava era quella roba lì e capisci e secondo me era una cosa fantastica adesso gli dai la chiavetta sia tutto tecnologico però cosa c'è quindi no è vero quindi mi piacerebbe ritornare un po alla cosa tattile quello se mi piace tanto che il sentano l'arte toccata in quel sensori anche non solo di musica quindi se credo che farò delle spero insomma vediamo di fare anche un formato così se funzionerà ancora ci sono ancora tanti mercati che vendono dischi quindi ci fanno anche le fiere adesso quindi speriamo che molta gente continua a comprare i dischi a questo punto noi tanto ti ringraziamo per essere stato ospite ci diamo appuntamento per l'uscita dell'album così ci racconterai tutto questo comp set perché un comp set album ha visto che è una sequenza storie di discorso e di racconto importante ma scappo dalla polizia che è uscito a fare scappo dalla polizia è stato un omaggio ai clash insomma perché scappo la polizia era un po di video che adesso esco e scappo da questa società era nel senso così poi scappo la polizia polizia e police on my back e che anche un testo abbastanza impegnato ma io con rabbia energia io ho ribaltato un po questa cosa di rabbia energia rabbia gioia insomma quindi io scappo questo personaggio che è matto se ne va questo era la cosa questo giocare ecco non bisogna mai smettere di giocare ecco e ci mancano due cose fondamentali gli indirizzi di dove poterti raggiungere e di poterti conoscere meglio e i saluti finali ok allora io ho un sito www.devedeve.it deve perché il deve era c'era già e quindi questa cosa il sito per me è una cosa molto importante sì perché trovi un po la mia la mia casetta ecco e poi vabbè un canale un canale youtube dove ci sono adesso c'è ho pubblicato il mio primo album che è un scusa il mio primo singolo che che era una cosa dei clash tra l'altro e niente quindi ho questo canale qua questo deve official così come però io voglio concertarmi sul sul sito quindi www.devedeve.it mi troverete di sicuro e niente io siamo i saluti finali io ti ringrazio tantissimo veramente per questa intervista mi ha fatto a me fa assolutamente veramente piacere parlare così e poi mi ha messo a a mio agio questo ti ringrazio veramente tanto e anche insomma mi ha dato l'opportunità di dire un po più di cose rispetto a una canzone quindi mi saluto veramente tutti tutto il tuo staff e tutto quanto studio 7 tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di pietro ciao 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 ciao